Occhiaie, pallore, spettrale, ci sono. Risvegno post-red in centro sociale, giusto? Io non capisco perché un'autrice televisiva così simpatica ed acuta guadagni soltanto 700 euro al mese. No, 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 non al mese, a progetto. Io sono una freelance precaria. A proposito, il luogo reality com'è che si chiama? Il grande politico. Com'è che va? Siete qui qui, eh, con le stette della camera? Ehm, quale camera? Sì, sì, la camera. Dai, portate la prego. Cosa? Dovevo dire? Nome, sessi, età, sempre l'italiano. Veniamo a noi, Manuel. Quante donne ministro ci sono nell'attuale governo? Ehm, meno di 7, no, mi dico. Di una donna ministro, con le palle. Buxuria! No? Comunque, se volete il mio numero, è 13. Per cambiare il mondo, meglio la politica. Mi ci vedi? Assessore. Sindaco. Il primo presidente del consiglio, donna. Mi ci vedi? Autoblue, 15.000 euro di stipendio al mese. No, no, tu non capisci. Io cambierei tutto. Io abolirei i privilegi, i compromessi, via. Dilla, metti i piedi per terra. Torna alla realtà. E poi anche tu ci sei stata col tuo capo, o no? L'ho fatto impazzire. Solita tecnica. Lingua spatola, destra, sinistra, tan 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 tan. Secco, è schifo. Ho entrato a bocca, era secco. No, ma che hai capito? Mi stava mica leccando la bocca. Non hai sentito le urlo? Mi sono perso. Mi so che era la prima volta. E? E? Ho finto. Un'altra botta. Ma? Bel periodo per diventare grandi, eh? Pregarietà. Se vuoi arrivare da qualche parte niente figli, in più se sei donna è tutto più difficile. Ma c'è una soluzione adesso, Villa. Le tette. Ma no, ma dai, soffri anche tu come le veline, non ci credo. No, no, non hai capito. Bisogna tirare fuori le tette invece che le paga. In gamba, ma femminile. No, no, non ci credo.